Don't use the current vile movie vocabulary Che è bellissimo Perché già da qui comincia ad essere super polemico Traduciamo, traduciamo Quello che sta dicendo è Non usare il vocabolario attuale Il vile vocabolario attuale sul cinema Chissà cosa fa riferimento per altri Questa è proprio la domanda che mi stavo ponendo Cosa intende? Di cosa sta parlando di preciso Quando dice il vocabolario? Abbiamo fatto questo bellissimo episodio Su le cose che un filmmaker dovrebbe conoscere Una rubrica, una lista presente sul notebook Di cui il primo è stato Tsai Mingliang Che ha presentato la sua lista Fortunatamente Mubi non ha smesso di farlo Perché sul quarto numero Che è il più recente ad ora Ha proseguito con Pedro Costa Quindi abbiamo le Things a filmmaker should know Le cose che un filmmaker dovrebbe conoscere Di Pedro Costa Siamo nello stesso identico ambito Possiamo parlare di slow cinema Di cinema post documentario In cui ci sono regole diverse Rispetto al cinema canonico Il filmmaker canonico Secondo me Pedro Costa peraltro Forse è pure un filo più sperimentale Di Tsai Mingliang In senso proprio Di che film ha realizzato È un regista portoghese Che è iniziato nell'89 se non sbaglio Quindi Tsai Mingliang è iniziato nel 92 Quindi sono più o meno coetanei artistici Però per me la differenza tra Pedro Costa e Tsai Mingliang È che Pedro Costa ha fatto il suo film più importante Nel 2019 Vitalina Varela Che io vidi su Rayplay Non so se ancora c'è Dovremmo informarci Se è presente ancora da qualche parte Lo metteremo nella descrizione Rifacciamo di nuovo questa cosa qui Leggendoci la lista di Pedro Che è un pochino più caotica Di quella di Tsai Questa volta diciamo Per evitare di saltare a metà Con certi punti Ci siamo già scelti Sette punti Ciascuno Che discuteremo Io ne ho uniti due Quindi vabbè E non vedo l'ora Perché secondo me Questa lista È un pochino più piccante È un pochino più Provocante Della precedente Ma tra l'altro Volevo dire che Una cosa che non abbiamo Propriamente detto La scorsa volta Ma che in questa Si evidenzia ancora di più È che Notebook decide di fare Cioè Notebook Mubi Questa tipologia di liste Come liste Diciamo da pensare Ovvero Sì Liste con una determinata profondità Ovvero sì Sono slogan quasi Sono piccole frasi Sono chicche Ma sono fatte per farti ragionare Non ti stanno imboccando niente Quindi qui è ancora più evidente Grazie a un paio di consigli Da parte di Pedro Costa Che non abbiamo Cioè non so se sono le scelte Però Proprio slogan Delle ripetizioni Sì 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 Tipo la prima di queste È Sì 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 Hear 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 Quindi Guarda 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 Ascolta 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 Seguita da Work 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 Che è una seconda Che non sono consigli Veri e propri Ma Questa ripetizione continua Che fa Quasi da Da eco Ha una tipologia Di indole No? Creativa Sì 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 Hear 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 E poi forse sarebbe anche interessante Provare a discutere Nel senso che Work 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 È qualcosa in cui io non mi ritrovo Certo sì Però Credo di capire cosa intenda Pedro Quando Pedro mio amico Il signor Costa Quando Dice work 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 È un po' un modo di dire Che spesso Il cinema Slow cinema L'art cinema Il cinema diciamo Che da museo Così definito Quello anche di Wang Bing Ad esempio Viene visto un po' Del pubblico Come un cinema A caso Prendo la camera La faccio partire I documentari Tipo di Wiseman Fai stare la camera 24 ore accesa In un posto Prima o poi succede qualcosa Quindi un cinema In questo senso Di non impegno Intende secondo me Un lavoro di pensiero Infatti lui ci mette 5-6 anni A fare un film Vuol dire che All'interno di quei 5-6 anni Lui condensa Un'esperienza di vita Molto maggiore La cosa bella Di queste liste qua E anche poi Come sono impaginate Cioè questa lista Non so se Magari la fai vedere Un attimo in camera È molto più caotica Rispetto alla prima Che invece era Frase Tratto Frase Tratto Frase Tratto Cioè come se fosse Veramente una pagina In quaderno Anzi qui addirittura Ci sono Cioè devi ruotare Devi ruotarlo Sì c'è anche Devi essere attivo Nella lettura Attivo Nella ricerca Di quello che c'è scritto In parte il lavoro della lista È anche in come impaginato Comincerei io Vai vai Se ti dispiace La prima che mi sono segnato È Distrust your first idea Fear helps Sfiducia della prima idea La paura Ti aiuta Sì La paura è tua amica In qualche modo Sì È interessante È qualcosa che ti fa Ti fa pensare Io quando scrivo Quando mi metto da parte Le idee È sempre un continuo Tornarci poi in seguito Per capire A cosa avevo pensato La maggior parte delle volte Le prime idee Che ho Sono molto banali O comunque sono Riciclate da qualcosa Che ho già visto Sono impressioni Criptomemoria Citazioni Diciamo Alle mie ispirazioni Cinematografiche E poi solamente Dopo Quando ci ripenso Quando Comincio A ragionare Veramente Perché Penso che Il consiglio qui Sia Il passare il tempo A ragionare Al pensare La paura Non è tanto La paura Di avere Un pubblico Che poi Si annoia Ma la paura Di non aver fatto Le cose per bene Si collega Al work 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 Cioè Di Tornarci in continuazione Per poter Approfondire Sempre di più Per andare in profondità Piuttosto che La superficialità Magari Di un primo pensiero Che può essere Sviscerato Sempre di più Beh anche un po' Non innamorarti Di te stesso Forse Anche sì Secondo me La cosa interessante Qui che manca Appunto nelle scuole Hollywoodiane Di sceneggiatura È Fear Helps Cioè l'idea Che il tuo film Faccia cagare La paura Che tu stai facendo Un lavoro superficiale O che tu non sia in grado Di farlo Anche perché A me è spesso capitato Di incontrare Questo scoglio Della paura Di non sentirmi in grado Di poterlo fare In realtà È come se fosse appunto Un motore Per poi farti fare il salto Per poi fartici impegnare Abbastanza Io ho selezionato Don't think about Artistic problems Think about Production problems Di sicuro Per chi ha visto Anche solo Mezza scena Di un film Di Pedro Costa Risulta totalmente assurdo I suoi film Sembrano estremamente Liberi dalla produzione Invece Pedro Costa Comprende pienamente Che un filmmaker Per essere tale Per essere Oggi considerato Veramente libero Deve essere anche Produttore di se stesso Secondo me E la produzione È lo scoglio più grande Se tu non affronti La produzione In maniera corretta Rischi di non fare il film Purtroppo ne so Anche qualcosa Quindi l'idea Che non ti devi concentrare Sugli aspetti artistici Perché in un qualche modo Arrivano da te O sono già presenti Nella realtà Nel suo caso Lui lavora in un modo Molto specifico Quindi non si preoccupa Di quella cosa lì Si fida un po' Di quello che c'è Dall'altro Ti piace Quindi è inutile Ragionare Io infatti Non credo Negli sceneggiatori Che tu gli dici Voglierei fare un film Su questo E loro ti buttano giù la roba Secondo me Ci vuole sempre un'urgenza Ma in quanto tale Non ha senso ragionarci Ragiona invece Su come affrontarla Produttivamente Peraltro non si riferisce neanche Pensa alla produzione Dice Pensa ai problemi Della produzione Cioè Se hai un'idea Come la puoi affrontare Al massimo Soprattutto immagino In quanto post documentario Tutta una questione Sui diritti Sulle liberatorie E su come affrontare Problemi più legali Anche Che produttivi Comunque poi Si Se non sbaglio C'è anche una sorta di Contraddittorietà In questa cosa Si 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 Che vediamo dopo Ah la vediamo dopo Si 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 La vediamo dopo Passo direttamente Alla mia prossima Don't use the current Vile movie vocabulary Che è bellissimo Perché Già da qui Comincia ad essere Super polemico Traduciamo Traduciamo Si 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 Quello che sta dicendo è Non usare Il vocabolario Attuale Attuale Il vile Sì esatto Vocabolario Attuale Sul cinema Sì Chissà cosa fa riferimento Esatto Cioè questa è proprio la domanda Che mi stavo ponendo Che Cosa Cosa intende Di cosa sta parlando Di preciso Quando dice Il vocabolario Il cinema corrente Io ho pensato Tutto a un aspetto Produttivo Cioè I mezzi Che si usano La tipologia Inquadrature Che si usa Di post produzione Tutta una serie Magari anche di ruoli All'interno del set Best boy Esatto Best boy Grip Tutte queste robe qui È bello vedere Come è vile Nel senso di Ormai legato A un discorso Produttivo Chiuso Di casta quasi Che devi sapere Oppure In qualche modo Non stai facendo Il lavoro giusto Perché è necessario Anche Una cosa di cui Parliamo spesso L'idea Che su un set Se sei Un elettrico Non puoi fare Nient'altro Sul set Ma non che Ovviamente Vai alla camera A toccare Ma magari Ci sono proprio Determinati attrezzature Che non puoi toccare Perché le possono toccare Non puoi nemmeno dare Una mano magari E allo stesso tempo Devi difendere la tua posizione Non può arrivare Quello del catering A parlare con te Esatto C'è una distanza Così come tu Non ti puoi riferire Al regista Una distanza gerarchica Quasi Come se fosse L'esercito Sì Molto chiuso Molto militare Vile anche per questo È molto distaccato Dalle cose Veramente importanti Poi una cosa Di cui parliamo Spesso noi È l'importanza Dell'umanità Sul set Del capitale umano In quanto Persone Di cui Hai fiducia O con cui Hai una scintilla Una sintonia Per cui Su un set Tutti possono Aiutare Questa cosa Poi si collegherà Anche a un'altra cosa Che dice poi Dopo costa Ma per me È molto importante Sì poi di sicuro Non vuol dire Che viva l'anarchia Può arrivare Una persona Che si occupa Di appunto L'autista E che ne so Si mette a parlare Delle tue scelte registiche È ovvio che lui Non intenda quello Ma nessuno Diciamo Mette in dubbio Il fatto che Se tu sei in grado Di costruire Una buona crew Un buon team Questa cosa Non succederà Quindi È ovvio che Rifiutare il sistema Con cui si svolge Il set Attualmente Significa poi anche Lavorare in modo da trovare Un'alternativa Valida e funzionante Funzionale Secondo me poi lui Si riferisce anche A tutti gli aspetti Da critico E da spettatore L'abbiamo già detto Forse nel primo episodio Regia da manuale Box office Tutta una serie di termini Con cui appunto Ci si riempie spesso La bocca Che si utilizzano Solo ed esclusivamente Per innalzare E elevare Anche un po' La propria figura Anche quel vocabolario Effettivamente Può essere considerato Vile Se si pensa anche Solamente Alla tendenza Degli ultimi anni Di pensare molto Al botteghino Come valutazione Di successo Di qualità Dei film Quindi assolutamente Anche quella parte Fa È vile Sì 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 È vile Schifosa E invece io Ne ho due Che unisco Perché sono secondo me Bene o male La stessa cosa La prima è Don't pitch Keep it secret Quindi Non fare i pitch Tieni lo segreto Never give away To sales agents Deal the film yourself Quindi Non regalarti mai Agli agenti Di vendita Agli agenti di mercato Gestisci tu il film Qui chiaramente Fa riferimento Ad una fase Importantissima Della produzione Di un film In cui Si ha l'idea Si deve vendere l'idea Nei mercati Spesso associati ai festival O comunque associati a Luoghi appunto di scambio Molto grossi In cui Ci sono Questi distributori E produttori Che Mettono a disposizione Del tempo Per ascoltare Le idee Dei registi Produttori E se La ritengono valida Finanziano E solitamente Questa cosa Viene fatta Da questa figura Che a cui lui Si riferisce Che è il sales agent Sales agent Che si occupa Di venderti il film Cioè di vendere il film Al posto tuo Perché tu in questo momento È una sorta di Manager Cioè della vendita Del film È come il talent agent Sì Degli attori Sì è un manager Di vendita Una roba un po' strana Quindi quello che lui dice Nella prima parte Don't pitch Keep it secret Quindi a prescindere Non fare il pitch Cioè non andare A questo genere di eventi Tieni in segreto Il tuo film Non andare a raccontare Il film prima che esista Prima che esista Che è bellissimo È una grande cosa Anche qui Non si riferisce Al metodo Nolan In cui la sceneggiatura È sigillata Si riferisce proprio All'idea che Tu ne puoi parlare Del tuo film Ma non vai A festival eventi Mercati O atelier A fare questo Vile lavoro Perché Vile adesso sarà un bel termine Perché Deal the film yourself L'idea è che In realtà Facendo questo Purtroppo tu Stai dando via Parte del tuo film Anche secondo me Lui si riferisce In senso di Compromesso Chiaramente Il sales agent Cerca in tutti i modi Di vendere il film Quindi che ne so Se si è in fase di pitch E si viene pungolati Da questi produttori Distributori Che chiedono modifiche Il sales agent Di solito Si rende disponibile Anche a eventuali modifiche Appunto del film O il produttore Il regista E non va bene Nel senso che In realtà Stai facendo un compromesso Di vendita Che spesso È svilente per il film Perché di solito Va ad intaccare Chiaramente cose Non a livello qualitativo Ma a livello di vendita Che a quel punto Non ha senso proprio Più fare Secondo me E lui dice Cazzo no Tu Ti devi gestire il film Ma anche secondo me Si riferisce A questioni più produttive Cioè lui vuole lavorare In sei mesi Gli dicono Sei mesi no Quattro Però lo gestisci tu Per lui è estremamente importante Che quindi Il regista Filmaker Autore Sia in prima fila Nella gestione Del proprio film A livello produttivo Può essere una questione Personale di conoscenza Con il distributore No? Cioè Essere talmente Tanto legato all'opera Che comunque Non vuoi che vada in mano A qualcuno Che non la può comprendere Fino in fondo E il sales agent Magari non Non può stare Nella tua testa Magari pensa Da un punto di vista Economico Qual è il modo migliore Poi magari Non è così Per tutti Poi è più complesso Infatti Sì esatto Cioè dipende anche Da tantissimi fattori Che non stiamo considerando Ma nella semplificazione Nella semplificazione Sì Lo immagino proprio come Un'idea di Avere sempre in mano E sempre Tenere fermo L'idea che il film È un'opera tua Anche dopo che è finita E quindi anche L'aspetto distributivo È qualcosa Che devi seguire Perché non puoi Abbandonarlo ad altri Sì Ok Cioè Ovviamente Senza diventare Un micromanager Di tutto Ma comunque Seguire il figlio Anche nei primi passi Non solamente Non solo La tata La babysitter Esatto Che per tenerlo Zitto Gli fa vedere la televisione Dalle patatine Esattamente Esattamente Quella roba lì Poi Rehears on film Bellissima Mi fa Impazzire Ovvero Fai le prove On film Ovvero In pellicola Ora lui Non pensa In tenda Di specifico Di girare Tutto in pellicola Sì Però Il girare In pellicola È un È un concetto Che rimanda Subito All'idea Di Sto sprecando Qualcosa Cioè La maggior parte Delle volte In pellicola Non si facevano Le prove Girandole Quindi Mandando avanti La cinepresa Che si mangiava Rulli e rulli Di pellicola Ma Si facevano le prove E poi Quando si era Completamente pronti Si cominciava A girare C'erano i vari take In questo caso Lui sta dicendo Tutte le prove Che fai Tutti i test Che fai Tutti gli studi Che fai Registrali In qualche modo Catturali Non lasciare Che le cose Si perdono Anche se Questo significa Sprecare spazio Sprecare pellicola Sprecare soldi Tempo E quant'altro O che ne so Coinvolgere Figure professionali Che altrimenti Non servirebbero Sì sì Però fa tutto parte Del film O comunque Del processo Del film E quindi Come tale Bisogna dargli Il rispetto Del resto Del film E in più E' anche bella L'idea Che questa cosa Possa essere Parte del film In futuro Cioè immaginare Di dire Non lo so Se vuoi parlare Tu di questa cosa No Parlavi l'altra volta Di un regista Di un regista Che fa Cos'è il genere In particolare Aung San Su Aung San Su Esatto Mi ha rivortato subito A quello che dicevamo Di Aung San Su Probabilmente Per i film che fa Pedro Costa Che sono comunque Sempre contaminati Da un'idea documentaristica Quindi se tu vai in location La prima volta Già fai le riprese Lui ad esempio Racconta Spesso Io ho visto un sacco Di interviste sue Che lui passa Veramente Tanto tempo Dietro Una singola inquadratura Lui arriva a fare 50 take Dietro una singola inquadratura Con attori non professionisti Secondo me L'idea di portare La camera Per quanto riguarda Pedro Costa È un'idea Di già abituare L'attore non professionista Al mezzo Che è di solito Come ben saprai Ma come è stato per noi All'inizio È molto pressante Ti distrai molto Ti deconcentra L'idea di portare La camera Sulle prove È in realtà Un modo per iniziare Un discorso di cinema Con gli attori Non professionisti Nelle location Con le persone Che passano per strada Abituando tutti Alla macchina cinema Lui poi Non va ad utilizzare Secondo me Le prove Anche io immaginavo Fosse una cosa del genere Anche per Pedro Costa Però mi immaginavo Anche della possibilità Delle prove che fai A parte poter essere Un mezzo per Accrescere l'opera Quindi in questo caso Magari Ambientare Diciamo Ambientarsi Con gli attori O cercare Di capire da subito E avere da subito La possibilità Di avere degli estratti Che ti fanno comprendere Come andranno Le riprese Però a me faceva pensare Questa cosa ti permette Anche di avere Tanto materiale Che è già filmico Di suo E che ti permette Di fare cose Di quel tipo No? C'è un regista Che è Hong Sang-soo Che è un regista Ultra prolifico Coreano Che non fa mai Solo il film Che vuole fare Ma con gli stessi attori Con la stessa idea Più film Di solito appunto Proprio perché Tu stai lavorando Cioè stai lavorando A un film Stai lavorando A un'idea E l'idea richiede tempo Richiede anni Per essere sviluppata Per arrivare Diciamo Ad una forma Ad un output definitivo Tutto il lavoro Che c'è nel mezzo Non lo buttiamo Lo trasformiamo In opere minori In opere di prova E' anche interessante L'idea di provare Con il film Cioè fare la prova Anche per vedere Se il montaggio funziona Se ci sono le cose Se io faccio le prove Solo con gli attori Nel senso di Li dirigo Con loro col tutone Senza costumi Per vedere se funzionano Poi tutta quella roba lì Come funziona In realtà Cosa che ha fatto anche Jezank Poi con tutta l'idea Che lui abbia iniziato i film Con le camere digitali Oppure che Secondo me è importante Anche questo Tutti gli scarti Poi sono utili Quindi quello che tu registri In futuro Poi lo dice anche lui No? Grow old shooting In futuro potrebbe Trasformarsi in shooting Utile per Montarci qualcosa Prove comprese Quindi secondo me È un po' questo Infatti è da Aggiungere assolutamente Al vocabolario vile L'idea di scarto e riserva Ah certo certo Buono scarto e riserva Esatto Mamma mia Terribile Certo Poi importante Secondo me Per uno studente Iniziare dal buono scarto e riserva Certo Poi quando inizia A costruirti la tua idea Di città La devi subito abbandonare Io avevo questa Che è Fight inflated budgets Fuck smartasses With financial packages Know the provenance Of every cent Of your budget Combatti Inflated Budget inflazionati Quindi in senso Che hai tre milioni Ma alla fine Il film ne costa uno E sono due milioni Buttati Fanculo Li smartasses Quindi questo è un termine Che tradotto è difficile I rotti in culo Intellettuali Rotti in culo Sì sono tutto io Esatto Con i pacchetti Conosci la provenienza Di ogni centesimo Del tuo budget Accade spessissimo Accade ancora oggi Accade in Italia Che arriva la casa di produzione Ti fa la propostona Ti danno tre milioni Per fare un film E questi tre milioni Tu non sai da dove arrivano Perché tu Stai firmando Diciamo Per la regia E poi magari Alcuni soldi Vengono da qui Altri soldi Vengono da qui C'è uno sponsor Sei costretto a fare quello Sei costretto a fare quest'altro Quello che accade È che spesso Alla firma del contratto Tu perdi il controllo Ovviamente poi Di come viene gestito il budget Rientrando nella idea Che abbiamo già discusso Pedro Costa dice No cazzo Conosci ogni centesimo Del tuo budget Se tu conosci ogni centesimo Del tuo budget Sai valorizzarlo Sai che Ogni giornata Che fai di shooting Ha un'importanza Gigantesca E sai anche Come muoverti Nei limiti Nei confini Di quello che ti serve Se tu hai budget Appunto inflazionati Giganteschi In realtà È un po' come La carta bianca Le idee perdono di potenza Secondo me Perché stai giocando Con qualcosa che non è reale È un'utopia È un qualcosa che non esiste E poi è molto divertente Smart Assess Cioè appunto Persone Intellettualini Che hanno Pacchetti finanziari Quindi che ti possono garantire La vendita La televisione La vendita di qui La vendita di lì Pacchetti quindi Già pronti Lui rifiuta Il già pronto È chiaro che Non è una cosa che Anzi vabbè Questa è una cosa che faranno Boh Due persone su un milione All'interno del mondo del cinema Fare questo tipo di operazione Allunga notevolmente I tempi di realizzazione Di un film Ma ti permette veramente Di avere Una libertà Secondo me Secondo me Ti fa dormire anche meglio In generale Perché Sembra una responsabilità in più Però in realtà Te la stai gestendo tu E quindi Sei molto più Tranquillo alla fine Una cosa da dire Sui budget Gigantiti Con Confeati E che è sempre difficile Oggi Capire Veramente Quando Un film Con un budget Stratosferico Sopra gli 80 milioni Sì Ok Sia un film In cui L'autore Aveva Veramente Tutto il potere Decisionale Sull'opera Che stava Stava facendo Perché quando si parla Di numeri Così tanto alti Pensare anche Che poi lo studio Ci deve rientrare In assoluto E pensare anche Di essere In un momento In cui Gli studio Sono estremamente Spaventati Anche Delle uscite in sala Ogni volta Andare al cinema E guardare Scorsese Anche solamente Per un attimo Tentenni Cioè nel senso Soprattutto sapere Ah Scorsese ha fatto Questo film Da 200 milioni C'è un attimo Di tentennamento Nel cominciare A chiedersi Se non abbia dovuto Sottostare A pressioni A decisioni Altrui E cose del genere Quindi anche Quello è il problema Dei budget Grandi Più i soldi Aumentano Più non so Se riesce A mantenere Le redini Del progetto Poi c'è anche Secondo me Un gioco di classe Molto forte Che lui fa Vabbè Peter Costa ha lavorato Con appunto I quartieri più poveri Quindi in un qualche modo La sua politica È una lotta di classe Però l'idea Che un regista Un Adesso Purtroppo il nostro Ministro della cultura Ha fatto un discorso simile Però vi assicuro Che non c'entra niente Però il fatto che un attore Percepisca Degli stipendi Giganteschi Mentre un Povero Assistente Che si fa Il culo Tanto quanto Perché non voglio Sminuire il lavoro Dell'attore Ci mancherebbe Tanto quanto Il regista Tanto quanto Il suo attore Protagonista Percepiscono Stipendio Che è Un millesimo Un milionesimo Del budget È sbagliato Cioè fanculo Appunto fuck Sti cazzo di budget Gonfiati Perché bisogna dare 40 milioni di caprio Cioè E infatti Subito dopo Nella lista Il buon Pedro Costa Dice Reduce the wage gap To the least possible Riduci Lo stacco Il divario Sì Di compenso Il più possibile Sì Tu Al divario minimo Possibile Che esista Ovvero Le persone che stanno Lavorando su questo film Lasciando stare poi A seconda dei gradi Gerarchia E tutte queste robe qui Le persone che lavorano Su questo film Devono poter guadagnare Il giusto Ed essere distaccati Il minimo Ovvero Lo schiavo Stagista Non può prendere Infinitamente Meno Rispetto a Che ne so Il best boy Che lavora lì Da anni Non O l'operatore E il direttore della fotografia Che fanno le stesse giornate Di set Stessa rottura di cazzo Sotto la pioggia Sulla neve Alle sei del mattino Però uno prende 2000 euro al giorno Uno prende 600 euro a settimana La questione è questa Si parla in continuazione Di gender gap Giustamente Perché esiste Ed è qualcosa di endemico All'interno Della nostra società Anche all'interno del cinema Ma il wage gap Esiste A prescindere Anche da Settore a settore No È possibile Che magari C'è il Ora Sparando Sicuramente Membri della troupe Che non penso Siano i film Di Pedro Costa Però Sicuramente Tipo Direttore della fotografia Ok Ma che ne so Capo del dipartimento Di trucco Parrucco Ok Abbiamo due capi Di dipartimento Sicuramente Da una parte C'è una figura Artistica Più È in prima linea Nel fare il film Mentre dall'altra parte C'è qualcuno Che lavora più Veramente In the back of the mind Cioè Indietro Anche nella testa Gli spettatori Poi Perché Magari uno non ci pensa Sempre subito A quell'aspetto Però sono entrambi Direttori capi Dei propri dipartimenti Non può esserci Un divario Allucinante Non può esserci Il direttore Della fotografia Il capo elettricista Divo E questa è la cosa Fondamentale Facciamo un attimo Di chiarezza Non è che dice Tutti devono percepire La stessa somma Di denaro Dice Riduciamola al minimo possibile Quindi Va bene Il direttore della fotografia Può guadagnare più Dell'operatore Ma Deve essere il minimo Indispensabile Per la responsabilità Perché effettivamente Magari Può gestire di più Non è Dieci Cento volte Tanto Così come È una cosa Che appunto Ahimè Accade Moltissimo Semplicemente perché Tu hai Il regista Che è Muccino Che è Paolo Genovese E quant'altro Alla firma Ancora prima di destinare I soldi Alla troupe Tu hai già Un compenso Milionario Di partenza È quello che dicevo È quello che dicevo Con la questione Di Vistica Cioè Chiami Roger Dickens A fare il film E ovviamente Roger Dickens Non si prende Lo stipendio O i soldi Che avrebbe preso Un direttore della fotografia Meno conosciuto C'ha anche La fi di essere Roger Dickens In più Anche con le musiche Cioè in realtà Vale proprio con tutto Poi ovviamente C'è anche lì Un discorso di Lui sta prendendo parte Del suo tempo Per fare il tuo film Rispetto ad altri film Ma per quello che sta dicendo Pedro Costa In questo caso Ai filmmaker Che sicuramente Non si potranno mai permettere Roger Dickens E cominciare a stare attenti Al modo in cui La troupe viene costituita In modo tale che Ci sia anche Una parità Comprensibile Fra Fra chi sta lavorando Si crea immediatamente Frustrazione Sul set E mi è successo Personalmente Se lavoro Per un progetto A lungo E poi Arriva Il grande Maestrante Di turno Che Per entrare nel progetto Cioè per salire sulla barca Già di default Vuole il doppio Il triplo Magari lavorando anche meno Perché poi un conto è Io lavoro meno Tu lavori di più È normale no Però un conto è Facciamo lo stesso identico Sforzo E ci sono queste cose qui Solo perché Poi anche per Milantare l'esperienza E allora Non va bene secondo me A proposito di Roger Dickens E di Filmmaker Che non se lo possono Permettere Ma Filmmaker Che lo vorrebbero Filmmaker Che dicono Io non lavoro Se non ho il grande attore Io non lavoro Se non ho il miglior Direttore della fotografia Io senza le musiche Di Ennio Morricone Non faccio il film Pedro Costa dice Give people A chance Cioè dai una chance Alle persone Nel senso che Fidati Dell'attore non professionista Che è appena coinvolto Fidati Del giovane studente Che è appena chiamato Per fare Il ruolo Di grande responsabilità Che gli hai fidato Fidati Del produttore Giovane Che sta investendo su di te Fidati Delle comparse Fidati di chiunque Dai una possibilità A queste persone Perché altrimenti Diventa appunto Una grande classe Una gerarchia Invincibile È troppo facile Fare il film Con Servillo Mastandrea E Favino Bisogna dare a tutti Una possibilità Altrimenti poi Non stai neanche scoprendo Non stai facendo nulla di nuovo Io ho molto spesso La sensazione che Non è una questione Di collaborazione Non è De Niro Scorsese Non è Bella Tar Che fa i film Tutti con le stesse persone È una questione Di come funziona il sistema Di solito I produttori Ti affidano Ti trovano Il direttore della fotografia Ti trovano E questo è un problema enorme Perché se tu arrivi Giovane regista D'esordio Con cui la produzione Ti ha appena affidato Dei soldi E dici Io questo film qui Voglio che ci sia Il mio amico Come protagonista E la produzione dice No no Mi dispiace Devi chiamare Luca Marinelli Ma voglio il mio amico Eh ma non ci fidiamo Ma chi è il tuo amico Chi cazzo è Invece Luca Marinelli Questo è il grande problema E Pedro Costa infatti Ha fatto Vitalina Varela Vitalina Varela Non è un personaggio È una persona Vera Fisica Che ha seguito Per anni Con cui ha costruito Un rapporto È una questione Di fiducia Io ho questo Study spaces Their pieces of time Studia gli spazi Sono pezzi di tempo Che è molto poetica Anche come Come frase E anche per allontanarci Un attimo Da tutti questi discorsi Produttivi Abbastanza polemici Da parte di Pedro Costa Questo invece Cioè è un consiglio Che si avvicina di più A quelli La scorsa volta In Zemingliang Mi piaceva in generale Come suonava Cioè proprio Anche la stessa idea Era molto simile A quello che dicevo La scorsa volta Sui posti Per Zemingliang Sulle immagini statiche Il tempo Perché studi E gli spazi Sono pezzi di tempo Per me Si intende sempre L'idea di Uno Sono costruzioni Nate nel tempo Cioè qualsiasi tipo di Non intendo costruzioni In quanto palazzi Intendo costruzioni Proprio del tempo Qualsiasi paesaggio Ha una storia dietro Che sia Una collina verde Trane Dubai Trane Dubai Anche Dubai C'ha la sua La sua storia È triste Ma Ha la sua storia Quindi I paesaggi Non sono lì da sempre Non sono sempre stati In quel modo Si sono formati Hanno una storia Anche spirituale Dietro Io sto immaginando In questo momento Paesaggi bucolici Diciamo Campagne Foreste Che comunque Veramente racchiudono Una storia temporale Ma allo stesso tempo Anche da un punto di vista Di visione I paesaggi sono Pezzi del tuo tempo Ovvero nel momento In cui li guardi Nel momento in cui Li esplori con lo sguardo Lo stai facendo nel tempo E stai utilizzando Il tuo tempo E questa cosa Ti permette appunto Di entrare Nei pensieri Ti permette di Vagare All'interno Dello spazio Quindi mi piace sempre Questo discorso cinematografico In cui Il tempo È il cardine Del discorso Ma lo spazio Non viene mai dimenticato Anzi diventa Veramente qualcosa Di estremamente potente Proprio perché Ci sono tutte queste Relazioni Che tornano In continuazione Dicono che Il 90% del lavoro Del regista È fare il casting Ma secondo me È anche Saper ambientare La storia Ci sono Un sacco di volte In cui vedo un film Bellissimo Un'allocation incredibile Poi si va in un interno Ed è una casa Che non c'entra un cazzo Con tutto quello Che è stato fatto Perché magari È un set Cioè è costruito È scenografato E invece c'era bisogno Un po' di quella realtà Precedente Perché poi si ha anche Un po' Timore no Di scegliere una casa Vissuta Per gli spazi Perché devi invadere Uno spazio Però vanno studiate Appunto secondo me Infatti che fastidio Tutti quei cassa Di filmetti Streaming americani Dove è sempre Tutto perfetto All'interno della casa Ci sono tutte le luci Accese dietro È tutto super pulito Che è evidente Che non sono mai State vissute da nessuno Perché appunto Lo spazio è fatto Dal tempo E se quello spazio È fatto veramente Da un tempo È così da sempre Cioè nel senso È proprio Intonza È 2001 È uno spazio Della mente Non è più Un posto reale Le effette Sì sì Sono tutto Tutto proprio fatto apposta Dallo scenografo Esatto sì Non c'è niente da studiare In quel caso Quindi è molto facile Allora io invece Torno un attimo Sul lato produttivo Però Fa ridere Sì questa era una piccola Deviazione All'interno Ma poi ce l'abbiamo Cioè ci torniamo Perché io non penso Che ci torno più Own your means of production Protect your tripod Quindi Come possiamo tradurlo Possiedi i tuoi Possiedi i mezzi Della produzione Sì I tuoi mezzi produttivi È ovviamente Una citazione Marxista Del comunismo No Cioè L'operaio Deve possedere Il proletario Deve possedere I mezzi Della produzione Proteggi il tuo Treppiedi Poi questo È uno slogan Bellissimo Cazzo Sì Possedere i propri mezzi Possedere l'attrezzatura È libertà Questo è Fondamentale Ma al posto che Vai tutto in 90 giorni Che ho 200 milioni Mi compro le cose Ci metto un anno Scusami Così Non devo stare ad affittare A rompermi le palle Se tu Hai la tua videocamera Hai le tue lenti E hai il tuo treppiedi Il tuo cavalletto Chiamiamolo Così Tu puoi quando vuoi uscire A fare le riprese Puoi riprogrammarle Piove Non piove Hai bisogno della neve Hai bisogno della notte Hai bisogno Tu hai sempre a disposizione Lo strumento con cui fare i film Se tu noleggi Sei costretto Al contratto di noleggio A lavorare appunto Nei limiti di tempo Che ti stai comprando E secondo me Protect Your Tripod Rientra nell'idea Che sei di tua proprietà Devi stare attentissimo Perché a quel punto lì Tutto dipende Da come tu Tieni alle cose Non so se ha una critica All'idea Che poi spesso Tra rental Set Eccetera eccetera L'attrezzatura Venga vista un po' come Ferraglia Sì ferraglia Possederle significa anche Pensarci molto di più Significa anche Che se le compri Ti servono davvero E io sono dell'idea Che più una crew è leggera Più è efficace nel lavoro No io ne ho due Sì Che verranno Le ultime due giusto Sì sono le mie ultime due Ma le accorpo Perché parlano più o meno Nella stessa cosa La prima è Don't touch bad films With your eyes Don't watch too many films Quindi questa è È la prima Ovvero Non toccare Con i tuoi occhi Film brutti E non guardare Troppi film Ok E queste Non sono nemmeno D'accordo con questa Quindi sarà interessante E la seconda è Disprezza Lo studio dei film Lo studio del cinema E disprezza Gli amanti del cinema Sdolcinati Quindi Qui Pedro Costa Ci prende Appedate nel culo Entrambi Intanto sono Nemmeno più polemici C'è il disprezza I film brutti Disprezza Gli spettatori Disprezza Lo studiare i film Che è proprio Provocante Provocatorio No? E all'inizio Quando l'ho detto Ho detto No Sta parlando di me Soprattutto per Non guardare film brutti E non guardare troppi film Non toccare con i tuoi occhi Non toccare Cioè stai alla larga Non ti sporcare gli occhi Che lo capisco In realtà È bello sentire anche Queste opinioni Così tanto forti E estreme Ovviamente io non sono D'accordo Sulla seconda Sicuramente Sulla prima Ha ragione Ma non sono d'accordo Cioè ha ragione Ma a me i film brutti Mi piace guardarli in compagnia Mi piace Dissezionarli Mi piace arrabbiarmi Sì Questa è una cosa Che soprattutto Negli ultimi giorni Abbiamo scoperto A me piace molto Arrabbiarmi E quindi guardare film brutti Mi riempie un pochino Mi dà quell'adrenalina E poi guardo Non so se guardo Troppi film Però guardo tanti film Dipende da lui cosa intende Dipende da lui cosa intende Se forse Intende non Strafogarti di cinema Però comunque Sono tutte e due cose Che faccio Quindi E continuare a fare Non è che se me lo dice Pedro Costa No 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 Certo Sempre cercando di capire Cosa c'è dietro La provocazione Vabbè Io sono pienamente d'accordo Invece sui bad films Quindi Io sono totalmente Pedro Costa Non voglio minimamente Guardarli E purtroppo È triste quando li guardo Mi sento derubato Appunto Invece su Don't watch too many films Siamo sulla stessa barca Nel senso che Non capisco se intenda Che ad esempio Già un film al giorno In un anno Sono tanti film Cosa vuol dire Tanti Cioè Intende dire Più di uno al giorno Intende dire Che una settimana Basta e avanza No In ogni caso Io ho sperimentato Entrambe le cose E credo di aver capito Cosa lui intende Secondo me Quello che si intende È Non guardare il cinema Come Una checklist Di cose viste Un archivio Come letterbox Dice Non guardare il film Solo per poter riempire La pagina Solo per poterlo Loggare Solo per poter Mettere questa cosa qui Anche in realtà Smontando il concetto Di festival Che tu in una settimana Ti guardi Giustamente Se hai l'accredito Cinque film al giorno Perché E io credo di sapere Molto bene perché Perché purtroppo Ti dimentichi Quello che guardi Se tu guardi un'opera E subito dopo Col tuo cervello Ne guardi un'altra Purtroppo faccio molta fatica A entrare e uscire E quello che succede È che facendo fatica A entrare e uscire Dedichi meno energie E dedicandomi energie Sei più disattento Rischia che ti rimanga meno Rischia che ti parli meno Invece un film Andrebbe digerito Per essere digerito Lo devi guardare Devi aspettare Magari lo riguardi E secondo me Don't watch too many films Fa riferimento a questo Anche probabilmente A questo punto Legandomi Magari non è proprio Quello che si intende Anche perché Comunque nella costruzione Della frase Non c'è questa cosa Ma anche Non guardare il film Come se fosse contenuto Non guardare troppi film Come se fosse qualcosa Che devi assorbire E basta Devi riempire Ecco in questo Questo è l'errore Che noi facciamo ad esempio Io mi devo vedere Scorsese Parto dal primo E vado all'ultimo Io mi devo vedere Fellini Parto dal primo E vado all'ultimo Errori che continuo a fare Tant'è che a volte Si incappano in cose Che sapevi già forse Che non ti potevano interessare Nel ceccare Scorsese Ci sono evidentemente Dei film che non mi interessano Ma che sono andato a vedere Perché è Scorsese E secondo me Non ha senso farlo Diciamo Però è una cosa Che si impara col tempo Poi considerando Che è filmmaker Quindi noi siamo anche Amanti del cinema Forse è un po' diverso E infatti Quando parla di Disprezzare Lo studio del cinema Disprezzare Gli sdolcinati Amanti del cinema Chi sono gli sdolcinati Amanti del cinema? Ah i film bros Sdolcinati amanti del cinema Non lo so Secondo me Si riferisce anche a noi Cioè Si riferisce a Lo studio accademico Del cinema Secondo me Per me questo è un Cercare di distaccare Il filmmaker Perché Ripetiamo Ma è chiaro Questi sono messaggi Indirizzati ai filmmaker Quindi a persone Che fanno film Cerca di dire State lontani Da queste cose Perché il cinema Non è quella roba lì E su questo Sono d'accordo Cioè Quello che stiamo facendo Noi ora Anche la nostra frase Di provocazione No Quanto è bello parlare Di un'opera Piuttosto che Guardarla Sono delle cose Che ci diciamo anche noi Riguardo al Effettivamente Non stiamo facendo cinema In questo momento E non stiamo nemmeno parlando Del cinema In quanto filmmaker Stiamo parlando del cinema In quanto spettatori Attenti Critici Accademici Ricercatori Quello che vogliamo Però Stiamo parlando di tutt'altro Stiamo parlando di post opera Non dell'opera Si Ok Possiamo anche Soffermarci poi A discutere Cosa è l'opera Però Quello che stiamo facendo È interpretare E dare alla luce Qualcosa di nuovo Mentre il filmmaker Deve stare lontano Dal Pensare Ah Siccome Tarantino Nei suoi film Fa questa cosa Di allontanare Tipo in Le iene Allontana la camera Dalla violenza Per Questo e quest'altro motivo Tu filmmaker Non devi pensare Che devi fare la stessa cosa Perché quello è il linguaggio Che abbiamo imparato Eccetera eccetera Tu filmmaker Stai facendo un'altra cosa Non devi pensare Al risultato finale In quegli altri film Secondo me è questo Ma secondo me è anche Quando fai un film Devi essere libero Dal cercare di evitare Di cadere nel divismo Nel successo Nel buon film Nel film che funziona Nel film che la gente si aspetta Che è appunto una cosa Che noi Da spettatori Ci aspettiamo Invece lui dice Non leggere Il messaggio Tu Che ne so Nanni Moretti Non leggere il messaggio Che ti dice Sei bravissimo Bravi film Ottimi film E allora sei disposto Disponibile a proseguire Tu devi fare il film Che vuoi fare Tu devi fare Il film che senti di fare Come lo vuoi fare Se tu vuoi raccontare la violenza Racconta la violenza Se no evitalo I film studies Secondo me sono estremamente importanti Per uno spettatore Per un amante Per un critico Quando si fa un film Si entrano in regole diverse Possono comunque rientrare Secondo me Anzi Lo spettatore aiuta Il filmmaker Nella stessa figura Nella stessa persona Però Abbiamo Mille Duemila Tremila esempi Di filmmaker Che invece Non sono per niente Studiosi di cinema O comunque Non fanno Diciamo Dello studio Del cinema Una funzione Attiva Nello sviluppo Di un film Quindi per me È importantissimo Poi certo Invece soppi film lovers Quindi smielati Amanti del cinema Per me è anche un po' Tutti quelli Che fanno le storie Dall'attore Al festival Sì Infatti sto pensando a quello Cioè Sdolcinati Amanti del cinema Potrebbe essere anche L'amante del red carpet Piuttosto che Del cinema stesso Del divismo Quindi Del grande attore Delle storie Ah questa storia Mi ha fatto stare così Ho aspettato sei ore Per vedere questo film Ho fatto il viaggio Di totte ore Per andare qua Un po' i content creator Di cinema oggi Anche in Italia Ci sono tantissimi Personaggi del genere Poi in Pollo Siamo anche noi Ne vuoi citare qualcuno? Vai No no io Tu non vuoi citare qualcuno Tocca a me Tocca a te Take trains And buses To work Time Is not Money Quindi Prendi Treni E autobus Per andare a lavorare Il tempo Non è denaro E' assurdo Cioè Mi chiedo Se Avessi già letto Quella Enzyming Sì sì Effettivamente Noi registi E lo slocino Dobbiamo dire Questa cosa No Io Non ricordo chi Anni fa mi disse I veri registi Prendono l'autobus In realtà So chi me lo disse E' una persona A cui tengo moltissimo Però Non voglio diciamo Mettere in mezzo Altra gente Quindi Quando io senti questa frase In realtà Molto criptica Non capì esattamente A cosa facessi riferimento Cioè perché Perché non stai vivendo Perché I film non si progettano Dietro la scrivania I film non si fanno Negli studi Quindi l'idea Che ci sia Il grande autore Che scrive Nella sua casa Milionaria Poi esca Prenda la macchina Prenda il taxi Prenda l'autista Vada dove deve andare E torni Quindi Eviti La vita Eviti I ritardi Dei treni Eviti L'imprevisto In realtà Rende L'autore Alienato Dalla vita stessa Dalla propria città Dove vive Dalle persone che lo circondano Dal confronto Un po' slegata Secondo me Ma che lui mette Nello stesso punto È Time is not money Il tempo non è denaro Che ovviamente Grazie Qualcuno me lo doveva dire Qui fa riferimento Forse al fatto Che il treno E il bus È più lento Io penso Che la vedo in quel modo Io lo vedo invece Come questo L'idea appunto Di bagnarti di realtà E il time is not money Invece come L'idea che L'abbiamo già citata prima Che vale anche per sai Tu Non hai Solo le tre Quattro settimane Di shooting Ma tu Te ne puoi prendere Dodici Diciotto Sei mesi Un anno Puoi anche fare Due settimane di riprese qui Due settimane tra sei mesi Puoi anche fare Ogni weekend Se in mezzo lavori Il tempo non è denaro È questo Fai duemila take Finché non ti viene Rifai le cose Passaci del tempo Non inseguire Questo poi Lo prendo anche Fuori dal cinema Fuori dal fatto Di essere un filmmaker E poi vabbè C'è appunto Quella che contraddice La prima Perché abbiamo detto Che Don't think about Autistic problems Think about production problems Quindi pensa ai problemi produttivi E poi lui dice Don't request shooting permits Non richiedere permessi di shooting Che sono diciamo Un classico Dal giovane studente filmmaker Che era il grande regista Cioè di Devi girare nel parco Devi chiedere al comune Il permesso Devi girare Non solo In metropolitana Ci sono le persone Di fargli firmare La liberatoria Sì Hai tutta una serie di carte Per cui Il produttore Non ti dà neanche Il via Questo è un problema Apprettamente produttivo Perché poi Una volta che fai il film Se non hai queste carte È un casino E lui dice Non richiederle Cioè tu fallo E basta Anche un po' E questo è il bello Secondo me Dando una forte idea Cioè è come se questa lista Fosse stata montata A me dà proprio Un'idea cinematografica Di questa lista Di un autore Che è libero È libero di pensare Al problema produttivo È libero di non chiedere I permessi È libero di far coesistere Due contraddizioni Nello stesso processo Così come nei suoi stessi film I suoi film sono Documentari E sono finzione Sono scritti E sono improvvisati Sono Hanno una fotografia Incredibilmente estetica Incredibilmente forte Ma non è The Lighthouse Non sono virtuosi In termini In termini Di immagine Eppure sono immagini Potentissime Perché il cinema Può essere Tante cose insieme Non bisogna confinarsi Nell'idea che Esistano delle regole matematiche Per affrontarlo E lui è l'esempio Concreto Anche perché poi A me piace molto lui Sai Tsai Mingliang Comunque arriva da Una wave Quella taiwanese Che era ricchissima In termini proprio Anche di cinema Di riflettori Pedro Costa è portoghese Fa i film Nei quartieri più poveri Di Lisbona Ci mette una vita Ed è fondamentale Secondo me Che un filmmaker Possa leggere Queste cose qui Poi ne abbiamo saltati Una decina Altrettanto potenti Però Sì un paio erano Work 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 Alcuni anche magari Sì esatto Detti magari In modo diverso Però È bello vedere Anche questa Un'animicità Su alcune tematiche No Cioè Soprattutto questa qui Proprio è endemica Nello slow cinema Lavora lentamente Il tempo non è denaro Pensa A mangiare E dormire Sì Tutte queste robe Che è estremamente potente Detto da Uno dei lavori Che è visto in maniera Più frenetica All'interno del mondo Cioè Penso anche Perché il filmmaker Non è videomaker Però pensate Anche a Come lavorano Proprio Nell'ambito i videomaker No Sempre in continuo lavoro In continuo movimento In continuo alla ricerca Esatto Sì Fuori di testa E quindi un filmmaker Che Quindi dovrebbe essere Il lato più Lento Di quel lavoro lì Deve Capire Che La lentezza Non sta solo Nella durata del film Ma anche nel modo In cui incede La propria vita E infatti Citiamo l'ultima Che chiuderà Quest'episodio No one Has ever known What cinema is Nessuno Ha mai saputo Che cos'è il cinema E ognuno Scoprirà la propria strada E ognuno farà il proprio Quindi Grazie Pedro Grazie Mubi Chi sarà il prossimo? E te lo volevo chiedere Io pezzo di merda Chi sarà? Chi sarà? Non lo so Secondo te Chi chiamano? Cioè tu sei Conosci molto di più Lo solo cinema Rispetto a me? Non so se continuano Su Su questa tipologia Perché di sicuro Non mi aspettavo Pedro Costa Di sicuro A questo punto Sono personalità Che Perché È superficiale Dire Zai Mingliang Slow Cinema Pedro Costa Slow Cinema Il loro cinema Visto E confrontato Sono due cose Completamente diverse Secondo me Zai Mingliang È un autore Del cuore Pedro Costa È un autore Del cuore Potrebbe esserci Quindi la zampina Del dio cinema Che sta facendo Fare queste interviste Quindi Per me potrebbe essere Jezank Per te È possibile Jezank Penso che andranno Su qualcosa Un pochino più Conosciuto Nella nicchia Ovviamente Tipo L'Abdiaz Ah Ah certo Anche l'Abdiaz Potrebbe essere Tranquillamente Sì Speriamo Di scoprirlo presto Non so Non ha una cadenza Specifica Quindi Soprattutto spero Che esca Dopo questi due episodi Così almeno Poter tenere Questo pezzo Perché sennò Dobbiamo tagliarlo Vai dimmi adesso Il tuo consiglio Per i filmmaker Incazzarsi fa bene Grazie Pedro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti